bene innanzitutto buongiorno buonasera a tutti chi è da remoto ci segue chi è qui in sala attendiamo che poi arrivino altri per poter iniziare talmente io ne approfittavo per dire un paio di cosette semplicissime e tullia con molta abbiamo andato un questionario se come dire avete fatto fate il tempo di risponderne cerchiamo poi di farne l'uso migliore insomma perché la progettazione della nuova annualità della scuola richiederà molto impegno questa in uno scenario così turbolento avevo bisogno di pensare bene l'impianto culturale e l'impianto delle proposte che dovevo riuscire a fare quindi è prezioso se riuscite a trovare il tempo per rispondere al questionario ci fate davvero un grande grande favore detto questo direi professore che possiamo iniziare allora accettiamo di dire questo che abbiamo con noi qui il professor Silvio Garattini io presumo che tutti voi lo conosciate Silvio Garattini è stato ed è un protagonista della vita pubblica della vita culturale della vita sociale milanese è stato fondatore del Mario Negri che è una prestigiosa istituzione scientifica di Milano e l'ha diretto per un numero enorme e attualmente ne è però ancora presidente e quindi la voce più autorevole scientifica che potevamo avere presente in questa nostra discussione io davvero sono davvero molto grato al professore che è qui con noi ha accettato di essere qui e devo dire anche ogni volta che per qualunque ragione l'abbiamo invitato professore è sempre stato disponibile è sempre sempre presente è una cosa che devo dire che mi commuove lo dico francamente una simile disponibilità attenzione presenza da parte della persona che ha così rilevanti responsabilità è una cosa davvero mi colpisce sempre profondamente l'abbiamo chiamato questa volta per discutere il tema che abbiamo proposto è dal cibo la medicina e gli effetti della pandemia pensavamo una cosa a due voci qui doveva essere anche Maria Sassi la quale però in realtà che è una esperta di agroindustria producente di agroindustria si trova in Africa in questo momento per una missione e poi non ha potuto rinviare quindi francamente giustificatissime insomma collegamenti da remoto in questo caso diventavano molto molto complicati e abbiamo dovuto rinunciare quindi abbiamo con noi il professore il quale come dire tale autorevolezza nell'affrontare la questione di come la pandemia richiederà un ripensamento di alcuni nodi di fondo del funzionamento del sistema sanitario e anche medicina dei vaccini tutte cose che si intrecciano assieme ma io non aggiungo altro perché davvero abbiamo come la possibilità di ascoltare una delle voci più autorevoli in Italia su questo campo. A lei la parola professore grazie di cuore per essere qui con noi. Grazie a voi per questo gentile invito buon pomeriggio a tutti ma è un pomeriggio avanzato ma c'è ancora il sole sono molto lieto di essere con voi e di poter discutere alcuni dei problemi che devono stare a cuore un po' a tutti perché la salute è un bene straordinario che abbiamo. Il Covid ha rappresentato Covid-19 ha rappresentato un problema importante per tutta la comunità direi mondiale perché non è un'epidemia è divenuta una pandemia e ha colpito tutto il mondo con almeno 5 milioni di morti con 160 mila morti soltanto in Italia e probabilmente è una sottostima della mortalità e quindi questo problema ha evidenziato molti aspetti che conoscevamo già ma a cui non davamo grande importanza perché la sollecitazione non era così forte come era stata rappresentata invece la pandemia. La pandemia ci ha dato delle diciamo dei messaggi che sono in qualche modo contradditori perché da un lato possiamo dire per fortuna che avevamo un servizio sanitario nazionale altrimenti sarebbe stata una carneficina. Abbiamo avuto tanti morti ma ne avremmo avuti molto di più se non avessimo avuto un servizio sanitario nazionale che pur con le sue difficoltà è stato pronto a reagire in tempo perché era una cosa nuova di cui non sapevamo quasi niente però è stato un bene un bene importante che era difficile che insostituibile però ci ha messo in evidenza anche alcune delle difficoltà alcuni dei problemi che conoscevamo ma che si sono in qualche modo più sono divenuti più evidenti e quindi io vorrei cercare così un colloquio molto tranquillo senza grandi non ho portato diapositive perché penso che sia più importante appunto la discussione vorrei fare un po' di osservazioni su quello che è il nostro servizio sanitario nazionale noi abbiamo una popolazione che è fra le più longeve del mondo come sappiamo 81 anni per il maschio e 85 per la femmina siamo ai primi posti insieme con il Giappone insieme con la Francia siamo ai primi posti nella graduatoria della sopravvivenza però se andiamo a guardare quello che interessa di più cioè quale è la nostra posizione per quanto riguarda la durata di vita sana che è quello che vogliamo avere tutti e allora ci accorgiamo che scendiamo molto scendiamo al quindicesimo posto perché abbiamo in realtà 75 anni per il maschio e 77 per la femmina perché rispettivamente 6 e 8 anni sono anni di cattiva qualità di vita e questo diciamo è diverso da quello di tanti altri paesi perché questa è una domanda che ci dobbiamo fare come mai abbiamo così tanta differenza fra la durata di vita e la qualità della nostra vita le ragioni sono molte e le sappiamo perché abbiamo molte malattie abbiamo una popolazione che invecchia invecchiando esprime molte malattie però dobbiamo anche sapere che le malattie sono evitabili le malattie non piovono dal cielo sono evitabili pensate che la letteratura scientifica ci dice che più del 50% di tutte le malattie croniche sono evitabili pensate al diabete di tipo 2 quello degli adulti pensate all'insufficienza cardiaca pensate all'infarto cardiaco all'ictus cerebrale pensate ai problemi renali pensate all'insufficienza polmonare sono tutte malattie evitabili per più del 50 per cento dei casi il 70 per cento dei tumori è evitabile eppure muoiono 180 mila persone all'anno in Italia di tumore e questo ci dice quale è l'entità dei problemi abbiamo visto che nel covid insomma le persone sane hanno avuto certamente molto meno problemi dalle persone perché la maggior parte di quelli che sono morti sono morti le persone che avevano alti fattori di rischio ecco quindi quale è un primo messaggio che dobbiamo prendere in considerazione è che abbiamo bisogno di rimettere al giusto posto una parola che esprime diciamo un atteggiamento che è prevenzione noi ci siamo dimenticati dalla prevenzione e il servizio sanitario nazionale si occupa poco di prevenzione e quindi abbiamo bisogno di una grande rivoluzione culturale cioè deve cambiare la cultura oggi noi pensiamo soltanto al fatto che quando ci sono delle malattie abbiamo o speriamo di avere in futuro dei rimedi e non pensiamo invece che la malattia è un fallimento perché è la mancata prevenzione in una grande maggioranza dei casi però c'è una grande contraddizione c'è un conflitto di interessi perché la prevenzione è contro il mercato e oggi abbiamo un mercato della medicina che è uno dei mercati maggiori quindi fare prevenzione vuol dire agire sul mercato ma il mercato vuole crescere come tutti i mercati non è che voglia rimanere a basso livello il mercato vuole crescere e poi questo il nostro è anche un mercato molto particolare se ci pensate perché normalmente quando noi vogliamo andare a comprare qualcosa siamo noi che andiamo scegliamo quello che vogliamo lo paghiamo e poi lo utilizziamo come vogliamo ma nel servizio sanitario nazionale chi paga che è lo stato non sceglie e non usa chi sceglie che è il medico non paga e non usa il paziente che usa quello che gli danno non paga e non sceglie quindi il mercato ha una grande capacità perché può colpire molte vie per aumentare la sua attività mentre invece la prevenzione oggi non è considerata affatto perché non dimentichiamoci che c'è anche tutto il ricatto occupazionale cioè se io dico questo farmaco non funziona togliamolo subito c'è l'industria che va dai politici dice va bene però io lascio a casa 100 persone e questo noi qui dobbiamo decidere se il servizio sanitario nazionale è fatto per gli ammalati o se è fatto per mantenere l'occupazione noi dobbiamo ritenere dobbiamo sostenere che è l'ammalato che deve essere al centro quindi c'è bisogno di questa grande rivoluzione culturale che va attuata non è che domani mattina perché lo diciamo perché lo sosteniamo non abbiamo la bacchetta magica per cambiare le cose ci sono le cose che devono cambiare per esempio noi non abbiamo mai avuto e dovremmo avere una scuola superiore di sanità dove formiamo i nostri dirigenti i dirigenti del servizio sanitario nazionale non li formiamo perché i dirigenti del servizio sanitario nazionale molto spesso sono i politici che non hanno vinto le lezioni li mettono a fare il dirigente oppure sono persone che sono raccolte da attività aziendali da altri tipi di attività noi se vogliamo fare una rivoluzione culturale abbiamo bisogno di dirigenti che hanno fatto tutti la stessa scuola di dirigenti che hanno la stessa mentalità che hanno gli stessi principi che pensano in questo caso alla prevenzione come una delle attività più importanti poi sarà la loro capacità che diciamo fa in modo che queste conoscenze vadano in accordo con l'ambiente in cui uno opera con le condizioni in cui si deve operare ma importante è che la cultura sia comune e poi l'altro aspetto è che la cultura si fa a scuola quindi non è che possiamo sperare che domani mattina perché lo diciamo le cose funzionano dobbiamo avere un programma di lunga scadenza e abbiamo dobbiamo avere un programma strategico e questo deve passare anche attraverso le scuole le scuole di tutti i gradi e livelli devono avere la cultura che oggi non c'è perché oggi nelle scuole non c'è la scienza non c'è l'insegnamento della salute non ci sono questi aspetti ci sono in qualche scuola per buona volontà degli insegnanti ma certamente non c'è come programma io dico sempre quando parlo agli studenti del liceo se voi volete sapere se qualcosa fa bene o fa male non lo potete chiedere al greco non potete chiedere all'arte non lo potete chiedere neanche la filosofia lo dovete chiedere alla scienza è la scienza quella che ha una metodologia che non viene insegnata che è quella che permette di stabilire se qualcosa fa bene o fa male e questo diciamo è un tipo la scienza è una forma di conoscenza unica che non è comune ad altre si integra si deve integrare con tutte le altre forme di conoscenza ma è diversa e uno può dire va ma scuola comunque si insegna fisica chimica certo ma quelli sono i contenuti della scienza sono i contenuti di quel momento non è la metodologia scientifica imparare la metodologia scientifica a scuola vuol dire poi non avere grande attenzione per tutte le fake news come le definiamo per tutte le informazioni che si ritrovano che sono sbagliate che non hanno nessuna base scientifica che noi accettiamo perché non avendo in generale una cultura scientifica dobbiamo sentiamo tutto e magari crediamo a tutto ma se avessimo una cultura scientifica la prima cosa che faremmo è dove sono le prove fammi vedere le prove e se io ho studiato so quali sono le prove che devo richiedere e questo diciamo è l'altro aspetto molto importante e poi è questo servizio sanitario nazionale ha un grande problema che è ancorato alla pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione è diciamo una forma di burocrazia incredibile che non non va d'accordo con quello che deve fare la salute con quello che deve fare il servizio sanitario nazionale non va d'accordo perché c'è tutta una serie di leggi di leggine di circolari statali regionali locali che imbrigliano che il servizio sanitario nazionale che invece deve essere una struttura molto agile una struttura flessibile una struttura che agisce con tempestività ci vogliono due anni per avere un primario e ci vogliono anni per avere un nuovo apparecchio bisogna passare attraverso una serie di burocrazie spaventosa noi se non riusciamo o ci disancoriamo dalla pubblica delle regole della pubblica amministrazione che possono valere per tante altre cose oppure non avremo un servizio sanitario nazionale efficiente l'unico modo sarebbe quello di trasformarlo in una grande fondazione in modo tale che possa utilizzare le regole del privato perché è quello che è importante che permette l'agilità poi evidentemente essendo soldi pubblici ci vogliono i controlli ma noi facciamo con la pubblica amministrazione una grande forma di controllo a priori e non facciamo mai controlli a posteriori che sono invece quali importanti cioè noi abbiamo un sistema burocratizzato perché pensate che per ogni tipo di intervento che si fa in un ospedale c'è una quota che viene di soldi che viene data per quel determinato intervento per cui c'è tutta la burocrazia per ogni intervento per riportare tutte queste tutti questi dati noi dovremmo agire come agiscono tutte le organizzazioni efficienti cioè ogni ospedale dovrebbe avere un budget e poi però alla fine di un certo periodo vengo a farti le pulci vengo a vedere come l'hai speso cosa hai fatto cosa hai combinato e questo è quello che permette l'efficienza perché poi a ogni ospedale ogni organizzazione che agisce in sanità ci sarebbe la possibilità di agire nel modo migliore per usare nel modo migliore i soldi che sono soldi pubblici e che quindi sono devono essere usati bene ma ci devono essere anche tutti i controlli a posteriori che sono quelli che insomma se se tu io ti do fiducia però se tu manchi la mia fiducia ti mando via e questo è quello che diciamo bisogna cercare altrimenti diventeremo schiavi del privato perché non c'è dubbio che il privato che non deve seguire le regole della pubblica amministrazione è molto più agile può fare molto meglio può prendere il primario che vuole se gli va bene per il suo tipo di attività mentre nel servizio pubblico questo non lo possiamo fare ecco una grande necessità cioè uscire dalla pubblica amministrazione perché vogliamo uscire dalla burocrazia e questo è un è un altro aspetto che diciamo va sviluppato se vogliamo cambiare veramente le cose qualcuno dice impossibile in realtà non c'è niente di impossibile perché io vi posso dire che siccome ho un lungo chilometraggio vi posso dire che quando io ero giovane era impensabile avere un servizio sanitario nazionale era una cosa che tutti avrebbero detto è impossibile perché allora c'era un servizio mutualistico servizio mutualistico che diciamo pagava fino a un certo punto per un certo periodo di tempo e poi se avevi soldi ti curavi e se non avevi soldi peggio per te io ho vissuto questo problema nella mia famiglia in cui mio padre ha dovuto prendere un secondo lavoro che faceva tutte le sere per avere i soldi per per superiore a problemi di salute che c'erano in famiglia e quindi allora era impossibile ma quello che era impossibile è diventata una realtà ancora quando io ero giovane era impossibile pensare che i manicomi si chiudessero assolutamente incredibile era contro il parere di tutti però i manicomi si sono chiusi cioè dipende molto dalla nostra capacità dalla nostra volontà dalla nostra partecipazione ai problemi e noi affermiamo giustamente e abbiamo diciamo la nostra costituzione che ci dice che il diritto e la salute è il diritto di tutti i cittadini ma è vero che è il diritto di tutti i cittadini non è vero perché diciamo intanto cominciamo a dire che chi ha soldi ha la priorità perché con l'intramenia quella che si chiama intramenia se uno paga ha la possibilità di avere subito una visita di avere subito un esame se non paga peggio per lui deve aspettare tre sei mesi di liste d'attesa questo è ingiusto non è accettabile non è sostenibile deve cambiare dobbiamo pagare meglio i medici forse perché sono pagati la metà della media europea ma non possiamo accettare che ci sia la legge che istituisce il servizio sanitario nazionale dice che la legge da la salute si occupa della salute ma si occupa con le caratteristiche di universalità equità e gratuita cioè non possiamo cambiare le regole fondamentali quindi questo diciamo è un aspetto molto importante abbiamo tutti il diritto alla salute ma non è vero perché non soltanto per questo perché chi ha malattie rare chi si occupa delle malattie rare sono malattie anti economiche le industrie non non hanno certamente un interesse a occuparcene e questo diciamo è un altro aspetto molto importante e non so le donne sono penalizzate dalla medicina perché la medicina è costruita sui maschi tutti gli esperimenti e gli studi clinici controllati sono fatti sui maschi e poi le donne devono subire le dosi e i tempi che vengono stabilite nei maschi ma noi sappiamo quando si fanno le ricerche che le donne hanno una sensibilità diversa ai farmaci rispondono ai farmaci in modo diverso per esempio l'aspirina che viene data per scopi preventivi con piccole dosi con la piccole dosi per l'infarto cardiaco è attiva nei maschi certamente ma è inattiva nel femmine eppure femmine quante centinaia di migliaia di donne ci sono oggi in italia che ricevono l'aspirina come tipo di trattamento preventivo e così ci sono moltissime cose che quando vengono studiate si vede che sono differenti perché le donne sono differenti dai maschi non soltanto per la risposta ai farmaci perché ma hanno una differenza prevalenza delle malattie hanno una differente diciamo sviluppo delle malattie hanno un differente esito delle malattie se guardiamo percentualmente quindi noi dovremmo costruire quando facciamo la ricerca dovremmo costruire la ricerca in cui c'è un percorso che deve essere quando quando diciamo le malattie sono comuni ai maschi e ai femmine dovremmo avere un percorso per i maschi e un percorso per le femmine che deve essere diverso perché poi dopo le conseguenze sono che le donne hanno molti più effetti tossici dei farmaci dei maschi e pensate che ben otto su dieci dei farmaci che vengono ritirati dal commercio vengono ritirati per tossicità sulle donne ecco questo vi faccio alcuni esempi vi faccio pensate agli anziani perché anche gli anziani non sono inseriti negli studi clinici controllati pensate agli anziani che prendono 15 farmaci al giorno ne conoscete anche voi probabilmente tra quelli che conoscete ma chi ha mai detto che 15 farmaci sono meglio di 10 e chi ha mai detto che 10 sono meglio di 5 non c'è nessuno studio e però questo è il mercato che prevale il mercato vuole espandersi e quindi quanto più si prescrive tanto meglio è ecco quindi come quante cose diciamo possono rientrare in un'affermazione che è fondamentale che è quella della nostra costituzione tutti abbiamo il diritto alla salute ma non è vero c'è chi viene soddisfatto e c'è chi invece non viene per nulla neanche considerato però se abbiamo il diritto alla salute abbiamo anche il dovere di mantenere la salute e questo è un altro aspetto che è poco conosciuto ed è poco sostenuto cioè mantenere la salute vuol dire migliorare per sé ma siccome viviamo in un servizio sanitario nazionale mantenere la salute vuol dire anche essere d'aiuto al servizio sanitario nazionale perché tutto quello che ho di malattie che potrei evitare va a carico del servizio sanitario nazionale quindi è per questo che la prevenzione non è soltanto importante per la nostra salute ma è importante per la sostenibilità del servizio sanitario nazionale che avendo meno cose da fare le può fare meglio le può fare più tempestivamente le può fare con ecco quindi che qui possiamo entrare nel problema lei mi dia il tempo perché sennò io vado avanti per magari per troppo tempo dicevo che noi abbiamo il problema che non facciamo quelle che sono che definiamo normalmente le buone abitudini di vita cioè la nostra salute dipende da noi pensate che abbiamo ancora 12 milioni di fumatori in italia siamo uno dei paesi che ha più fumatori abbiamo circa 80 mila morti all'anno solo da fumo e questo diciamo è un grosso problema che abbiamo ma chi è interessato a far smettere di fumare presidente del consiglio è andato inaugurare una grande fabbrica di tabacco nelle zone della romagna che è scandaloso se pensiamo alla salute lo stato incassa qualcosa come 13 miliardi all'anno di tasse sul tabacco avete visto che l'unico modo per cui si poteva uscire dalla dal lockdown era per andare a comprare le sigarette per le tabacchierie erano delle cose che erano aperte e non per nulla perché interessava naturalmente allo stato di non perdere una tassazione che ricavava quindi insomma quindi non è che possiamo sperare di avere grandi aiuti da programmi statali visto che c'è questa situazione ma poi non c'è solo tabacco c'è l'alcol ci sono le droghe chi si occupa delle droghe addirittura le vogliamo legalizzare le scommesse la pubblicità diciamo che che diciamo le scommesse generano malattie ma la pubblicità non fa altro che proporre commesse lotterie non non c'è limite a questo insomma quindi c'è una contraddizione e poi abbiamo tanti problemi che riguardano la qualità di vita pensate al cibo di cui oggi avremmo dovuto parlare ma anche qui noi sappiamo che cosa dobbiamo fare perché ci sono due regole fondamentali la prima con il cibo è quello della moderazione dobbiamo mangiare poco sappiamo che mangiare poco è un fattore di longevità questo stabilito da studi tantissimi tipi che stabiliscono questo aspetto quindi dobbiamo avere una varietà e una moderazione varietà perché abbiamo bisogno di tutti i micro e macro nutrienti importanti per la nostra per il nostro organismo ma moderazione e poi oggi la varietà è sostenuta da un altro aspetto che siccome abbiamo a che fare con cibi che sono necessariamente contaminati perché i contaminanti sono sono dappertutto è chiaro che se noi mangiamo sempre la stessa cosa aumentiamo il quel tipo di contaminante se ne mangiamo tanti differenti contaminanti si riduiscono quindi questo è un altro aspetto il cibo è molto importante perché per via della del nostro organismo per via del fatto che se mangiamo troppo aumentiamo di peso se aumentiamo di peso se diventiamo obesi abbiamo tutta una serie di fattori di rischio che dipendono dall'obesità per esempio pochi sanno probabilmente che l'obesità è un aspetto importante per il tumore del se non le donne pochi sanno che l'obesità è un aspetto molto importante per il diabete di tipo 2 quello insomma c'è una forte relazione fra il mantenere il nostro peso corporeo e la vera malattia e se non lo manteniamo e questo è un altro aspetto dei tanti che potremmo evocare e poi c'è il problema dell'esercizio fisico c'è troppa sedentarietà esercizio fisico è importante non soltanto per la nostra circolazione ma è importante perché agisce sul cervello è poco intuitivo il fatto che camminare è importante per la per il cervello perché camminare vuol dire fare un po di fatica vuol dire liberare dei principi che sono in grado di dissolvere i piccoli trombi che abbiamo nei nostri capillari e che sono quelli che condannano i neuroni alla morte quindi se noi li liberiamo abbiamo meno neuroni che muoiono e quindi abbiamo la possibilità di mantenere meglio il nostro cervello è come pure importante il l'esercizio intellettuale cioè non dobbiamo fermarci nella nell'apprendere nel fare nel mettere il nostro cervello sotto l'influsso di un continuo una continua presenza di impulsi perché il nostro cervello per andare avanti ha bisogno di essere molto influenzato ha bisogno di lavorare ha bisogno di perché se noi acquisiamo una massa cognitiva una riserva cognitiva importante la diminuiamo la diminuiamo necessariamente con l'età ma va giù più lentamente se la nostra riserva cognitiva è piccola si esaurisce molto rapidamente quindi insomma queste sono altre ragioni il sonno un altro aspetto importante anche questo tutti noi pensiamo si pensa normalmente che il sonno sia importante per il riposo è vero perché è importante per il riposo ma il sonno ha un'altra funzione molto importante che è poco riconosciuta e cioè noi il nostro cervello è l'organo che lavora di più e durante il giorno lavora di più che di notte quindi di giorno tutte le scorie che si formano hanno difficoltà a essere eliminate ma nel sonno le scorie vengono eliminate al doppio di quando siamo svegli e quindi il sonno ci libera da tutte le scorie che sono importanti per la nostra per il funzionamento del cervello e così via insomma adesso non voglio ma abbiamo una serie di comportamenti che dipendono da noi poi abbiamo una serie di comportamenti utili alla nostra salute che dipendono dalla società in cui viviamo cioè la povertà è uno dei fattori di malattia più importanti perché sono i poveri che fumano di più sono i poveri che mangiano peggio sono i poveri che non hanno accesso rapidamente alle cure e quindi questo è un altro fattore che non dipende da noi ma che dipende dallo stato e lo stato che si deve occupare di diminuire la contaminazione l'inquinamento sono altri fattori importanti il cambiamento di clima che dipendono da anche dall'uomo sono cambiamenti importanti che non dipendono dai singoli ma dipendono dalla collettività quindi dobbiamo attivare tutto questo nella speranza che e poi diciamo questo fa parte delle cose che aumenteranno la salute e quindi sottrarranno anni di vita in cattiva qualità e poi un ultimo argomento poi dopo smetto magari è perché è interessante sentire poi la discussione un ultimo argomento è il rapporto cioè il covid ci ha fatto capire che non abbiamo un buon rapporto fra territorio e ospedale questo è l'altro problema molto importante i medici del territorio non hanno contatti con i medici dell'ospedale e anzi c'è una reciproca sfiducia fra questi due mondi non c'è assolutamente fiducia anche perché c'è un mondo quell'ospedaliero che è rappresentato dai dipendenti del servizio sanitario nazionale e c'è un mondo quello del territorio dei medici di medicina generale che sono invece dei professionisti che non hanno che noi dovremmo fare diventare dei dipendenti perché sono devono essere dipendenti non possiamo avere un servizio sanitario nazionale in cui i medici di medicina generale fanno 15 ore di ambulatorio alla settimana noi se vogliamo che il territorio funzioni dobbiamo avere sette giorni alla settimana di disponibilità degli ambulatori ma la possiamo fare soltanto se abbiamo dei dipendenti e poi se mettiamo insieme tanti medici cioè un medico da solo con la complessità che c'è nella medicina non può fare niente non può non può sapere quello che è necessario dobbiamo mettere insieme parecchi è quello che ci aiuta poi a fare meglio parecchi medici insieme una buona informatizzazione del sistema una buona segreteria avere accanto ai medici i pediatri di famiglia che lavorano insieme avere insieme degli psicoterapeuti avere insieme soprattutto dei degli assistenti sociali perché tanti problemi non sono di natura strettamente sanitaria sono di natura socio sanitaria il rapporto con il domicilio è un rapporto socio sanitario noi abbiamo bisogno che si intensifichi questo rapporto perché tante cose si possono fare a domicilio e a domicilio dove c'è bisogno tante volte di aiuto dove ci sono le persone ammalate che anche se vengono all'ospedale non cambia niente cioè hanno bisogno di altri tipi di aiuto che sono più tipi di aiuto sociale che non di aiuto sanitario e dobbiamo avere all'interno di queste comunità queste che chiamiamo adesso case della comunità dobbiamo avere un servizio di telemedicina dobbiamo avere un servizio di di analisi molto semplice è inutile mandare in ambulatorio in laboratorio a fare le analisi tanti pazienti tutte le analisi di routine si fanno oggi con delle apparecchiature che non costano nulla che sono semplicissime che non hanno bisogno di nessun intervento fanno tutto da sole quindi invece di mandarli in ospedale a perder tempo e a fare o al pronto soccorso lo si fa direttamente in queste unità dove si fa il prelievo si mette il prelievo nella macchina la macchina ti dà tutti i risultati necessari senza far perdere tempo la gente e senza fare tante carte che devono essere fatte per poter avere e senza pagare i ticket che è inutile pagarli quando si possono fare più direttamente questo insomma il questo servizio di comunità deve diventare un filtro molto importante per il pronto soccorso che oggi sono pieni di persone che hanno cose molto minori perché non trovano aiuto da parte del loro medico e che invece dovrebbero occupare dei casi gravi e che invece devono starvi in barella magari per ore e ore perché c'è la coda di altri che hanno cose di scarso interesse devono apprendere un filtro queste comunità per il pronto soccorso e per l'ospedale che deve invece fare le cose che sono acute le cose che sono importanti perché per il resto con la telemedicina si può fare un raccordo fra il territorio e l'ospedale perché molte ci sono oggi sensori ci sono tanti sistemi che permettono di realizzare questi rapporti e poi la telemedicina ha un aspetto molto importante che credo abbiamo scoperto nell'ambito del covid perché molto spesso i pazienti non hanno bisogno di nuove terapie hanno bisogno di parlare con il medico hanno bisogno di scaricare le loro i loro problemi hanno bisogno di rappresentare le loro preoccupazioni e tante volte basta una parola attenta da parte del medico per risolvere tanti problemi per per generare molta più serenità più tranquillità da parte della del paziente ecco quindi e poi e sono questi servizi che dovrebbero fare in associazione con il terzo settore in associazione con tutta la parte sociale che esiste già sul territorio dovrebbero fare anche questo grande lavoro insieme a tutto quello che abbiamo detto fino adesso un grande lavoro di prevenzione e che però su cui poi bisogna fare in modo che i medici rendano conto cioè tu quando hai cominciato avevi mille fumatori dopo tre anni quanti ne hai avevi mille che bevevano troppo quanti ne hai dopo tre anni aveva mille che sono sedentari che sono obesi quanti ne hai dopo tre anni perché è così che bisogna se se noi paghiamo della gente li paghiamo perché ottengano dei risultati e poi dopo ci sarebbero tante altre cose ma per adesso magari ci fermiamo qui grazie grazie a lei professore anche questo grande respiro che riuscito a dare la conversazione bene adesso la parola a voi vediamo un attimo di campi sono spaziati tutti i campi diamo un attimo la parola a voi anche i nostri da remoto ci sono domande arrivano con calma bisogna lasciare prego il microfono il microfono perché così si viene registrato esatto è tutto registrato circolerà poi interiormente volevo buongiorno grazie per il l'intervento volevo porre un'altra questione che secondo me è importante è che è di che è recente diciamo in questo sistema che lei ha illustrato e sono tutti i centri privati accreditati nel senso che la sst sta anche io conosco perché appunto lavoro nei servizi sociali sta eh facendo dei concorsi perché non ha più medici eh per cui anche nei servizi specialistici nella psichiatria eccetera cerca di eh ampliare il proprio numero di medici ma tutti i medici vogliono andare a lavorare nei centri privati perché non fanno i turni perché forse vengono pagati meglio e questi centri privati continuano ad aprire punti di ehm eh di accoglienza diciamo del pubblico eccetera e eh ci sono appunto concorsi che vanno completamente deserti questo comincia a essere un problema sì questo diciamo è una domanda molto importante è un problema che esiste e che però esiste per tutti esiste anche per i privati perché abbiamo troppo pochi medici cioè non abbiamo programmato le cose pochi medici anche tanti altri pochi operatori sanitari manchiamo quarantamila infermieri nel nostro paese quindi insomma abbiamo tante tanti problemi e una delle ragioni per cui lo dicevo prima per cui è anche difficile prendere trovare le persone che vogliono formarsi a fare il medico per averne di più per esempio perché vent'anni fa avevamo un milione di diciottenni adesso ne abbiamo cinquecentomila quindi abbiamo poche persone da cui non non riusciremo a risolvere il problema eh se non cambiamo radicalmente il nostro atteggiamento e dovremmo importare i medici mentre oggi li esportiamo perché molti vanno via il modo migliore è quello nel pubblico di pagarli bene se li paghiamo bene eh rimangono oggi lo ripeto ricevono la metà della media europea e quindi è troppo poco è chiaro che chi può se ne va lei poi ha posto il problema del privato e del pubblico e questo appunto è la ragione per cui le dicevo prima che non possiamo ancorare il pubblico alla alla burocrazia perché lo Stato si comporta in un modo differente cioè rimborsa il privato per quello che fa il privato per il servizio sanitario nazionale ma al privato non chiede la burocrazia che richiede al pubblico al privato gli dà i soldi e poi eh basta e il privato naturalmente che ha scopo di profitto eh non è che faccia soltanto gli interessi del paziente il privato eh più fa interventi e meglio è il privato e il privato paga i medici sulla base del numero di interventi che fanno e e questo diciamo non non dovrebbe essere permesso cioè dovrebbe essere regolamentato anche questo questo aspetto eh sono lei ha sollevato un problema molto importante vale molto per esempio per le psicoterapie vale molto per i malati mentali perché noi veramente ci comportiamo come servizio sanitario nazionale in un modo ingiusto nei confronti degli ammalati mentali perché eh lasciamo poi tutto il peso sulle famiglie mentre invece dovremmo avere assistenti sociali che aiutano dovranno avere centri dove questi pazienti possono rimanere almeno per un po' di ore della giornata eh dovremmo avere molta più psicoterapia a carico del servizio sanitario nazionale mentre invece oggi si deve pagare e queste diciamo sono le cose che dovremmo cercare di di fare di portare avanti sono dei veri problemi grazie professore mi sento molto stimolata dalle cose che ha detto volevo chiedere due cose eh mi interessa molto questo aspetto del medico privato che sul territorio dovrebbe diventare un dipendente non credo che noi riusciremo a vederla questa variazione non c'è niente di impossibile però c'è anche i suoi tempi passare dall'impossibile al possibile mi chiedevo però se non si potesse invece agire in sede di convenzione e sia per i medici di territorio sia soprattutto per i medici di pediatri si potrebbe cercare di trovare qualche sistema che consenta la salute è un diritto i bambini piccoli se i genitori non li portano dal pediatra il pediatra si prende il suo compenso per chi ce l'ha nella lista ma non sa neanche che faccia a questo è un aspetto il collegamento tra eh il pronto soccorso e il medico di famiglia e il pronto soccorso tra di loro non c'è una modalità di comunicazione interna il bambino che viene maltrattato che viene portato al pronto soccorso non va mai nello stesso pronto soccorso cambia e individuare alcune tipo di fratture come sintomo del maltrattamento non è una cosa così semplice per i medici allora se ci fosse la possibilità di leggere al nome del bambino tutti gli accessi che sono stati fatti nei vari ospedali noi avremmo la storia del bambino e quindi riusciremmo a intervenire anche con quei servizi sociali a cui lei faceva riferimento in un modo diverso lei pensa che in sede di convenzione si possa raggiungere un obiettivo di questo genere ma io credo che la resistenza alla dipendenza è da parte dei vecchi medici di quelli che i giovani non sono così contrario conosco vari movimenti che in realtà sarebbero favorevoli noi indipendentemente dalla forma però abbiamo il problema di aumentare la produttività dei medici perché ho detto prima non ce ne sono a sufficienza se non ce ne sono a sufficienza e fanno 15 ore la settimana è chiaro che devono fare 40 ore la settimana poi le modalità possono essere discute l'importante è che ci sia una possibilità di lavoro per un periodo come tutti i lavoratori fondamentalmente poi il problema dei pediatri famiglia è un problema piuttosto complesso e lei ha fatto bene a a metterlo in evidenza dovrebbero lavorare in stretta collaborazione con i medici medicina generale e dovrebbero agire molto di più a livello scolastico noi prima avevamo i medici scolastici e il pediatra di famiglia dovrebbe vedere i bambini li vede a scuola e li vede tutti perché la scuola è obbligatoria quindi non ha non avrebbe problemi nell'identificare noi uno dei grandi vantaggi che abbiamo avuto con la medicina scolastica è che certe malattie si riconoscevano precocemente e oggi lo possiamo fare ancora di più perché le conoscenze sono straordinariamente migliorate e quindi possiamo riconoscere prima i bambini autistici riconoscere prima i bambini che hanno problemi di comportamento riconoscere prima i bambini che hanno una un diabete che spesso si si riconosce soltanto in tempi successivi quindi il fare in modo di ripristinare la medicina scolastica attraverso il pediatra di famiglia è una delle cose molto importanti quindi è una delle cose che dobbiamo mettere sul tappeto grazie diamo altre domande prego io così sono un 89 anni quindi uno di quelli sopravvissuti e ancora un ragazzino figuriamoci io dovrei lamentarmi molto di più di lei normalmente si dice corna facendo e no voglio dire una cosa sono molto coinvolto nelle cose che lei ha detto perché partecipano moltissimo alle cose però per esempio dal siccome sono portatore di pacemaker no sì prima ero al monzino appoggiato eccetera adesso sono invece appoggiato a un altro centro cardiologico di recente ho avuto la sostituzione del dell'apparecchio beh insomma ho dovuto farlo privatamente avvalendomi del fatto che per il mio passato professionale dispongo di un'assicurazione che mi copre abbastanza le le cose e recentemente il mio medico abituale storico è andato in pensione nuovo medico nessuno nessuno di quelle cose che lei diceva prima il rapporto con il assolutamente burocratizzato efficiente però senza rapporto personale molto vissuto tutto questo fra l'altro con il fatto che se uno incalza per il per comunicare no dice oh ma io sono molto occupato eh c'ho un sacco perché naturalmente i medici sono di meno e quelli che ci sono hanno un numero di di pazienti molto più alto del solito allora io quello che voglio dire questo noi eh nella zona del municipio 3 di Milano stiamo raccogliendo una serie di firme una serie di azioni eccetera per avere istituire un ambulatorio multidisciplinare diciamo eh e non so se riusciremo ad avere un un successo su questo punto di vista però le cose che lei tutte le cose che lei ha detto più la conoscenza di lei come esperto di medicina eh da da decenni eh frequentato da decenni eccetera dico ma lei eh non ha l'opportunità di intervenire in maniera eh incisiva sul sistema sanitario nazionale o anche o perlomeno su quello locale per fare in modo che tutte queste queste esigenze che eh sono verissime lei le conosce le ha citate per benino proprio voglio dire ne sa più di me eh di quello che io di cui ho bisogno insomma è possibile avere un una maniera un movimento un'organizzazione qualcosa che consenta di indurre ai risultati che tutti i bisogna che lei hai elencato grazie e penso che diciamo io ritengo scandaloso che lei abbia dovuto andare privatamente a fare qualcosa che il servizio sanitario nazionale deve fare quello che eh diciamo lei diceva di questo un po' lì ambulatorio certo in realtà è quello che si dovrebbe fare attraverso la casa della comunità la casa della comunità dovrebbe contenere molte specializzazioni quindi ci dovrebbe essere la possibilità di avere persone medici con competenze diverse e quindi soddisfare anche a quelle esigenze come si fa sale le le i cambiamenti non avvengono con la bacchetta magica i cambiamenti avvengono con il lavoro di tanti io questo tipo di cose qui le dico da da molti anni recentemente ho scritto anche un libro il futuro della nostra salute e poi ne ho scritto anche un altro ho scritto una medicina senza mercato bisogna che tutti quelli che possono cerchino di alimentare una corrente di pensiero normalmente quello che succede nei cambiamenti sono tre fasi la prima fase è che di fronte a cose nuove tutti pensano che quello lì è uno un sognatore un belletario è uno che non ha ma non succederà mai poi piano piano se si insiste piano piano ce ne sono sempre di più che dicono ma sì ma questa roba qui può essere giusta ma cerchiamo di farla e questa è la seconda fase poi la terza fase è che quando la fanno e si dimenticano di chi l'ha chi l'ha chiesto per primo quello è il vero successo perché vuol dire che passiamo dall'impossibile al possibile e questo è diciamo è quello che io ho visto tante volte nella mia lunga storia dobbiamo tutti insieme quanto più noi seminiamo queste idee tanto più queste idee hanno la possibilità di diventare realtà dobbiamo credere nella nostra capacità di cittadini di contribuire a migliorare le conoscenze prima e il frutto delle conoscenze poi che sono le azioni certo a riguardo mi prego io solo una cosa guardate che noi qui in casa della cultura abbiamo un gruppo di medici una qualche consistenza che si riunisce regolarmente e porta avanti queste battaglie sono garattini altre volte sono coinvolte in queste discussioni insomma è un gruppo tenace che combatte fortemente hanno costituito anche un comitato un coordinamento per la difesa del servizio sanitario l'hanno chiamato un po' pomposamente movimento per la difesa del servizio sanitario e per andare via anche è una rete raticolata che riguarda un po' vari pezzi anche della regione insomma quindi c'è altre persone che lavorano esattamente dicendo la stessa cosa perché io le cose che il suo professore garattina ha posto qui con un afflato come dire una così da grande maestro insomma sono cose che sento spesso dei nostri amici il tema della prevenzione la grande idea di forza insomma quell'impostazione io la risento scorrere in questi medici che contorna con noi nel nostro lavoro che producono iniziative che poi avete modo di vedere le nostre attività ci sono parecchi interventi quello in cui dobbiamo credere è che se tutti noi che siamo qui in questo momento propagandiamo in qualche modo cioè trasferiamo ad altri questo tipo di idee questo è il modo per arrivare nel tempo a un successo dobbiamo credere nelle nostre capacità di trasformare la società questo è dipende da tutti dipende da noi non dipende da altri scusate è forte questa affermazione c'è un punto che ha attraversato la nostra vita nelle cose che dice adesso professor Garattini abbiamo parecchie domande anche da remoto scusate io devo rispettare anche il remoto perché se no come dire giustamente giusto allora vediamo un attimo Pier Giorgio Daniele Pier Giorgio a te la parola con la raccomandazione della rapidità anche perché vedo che hai preannunciato due domande quindi mi raccomando a te la parola no la prima domanda riguarda a una sua previsione rispetto agli sviluppi della pandemia cioè premesso che vabbè io sono convinto filosoficamente parlando che la specie umana partorisce i cambiamenti nel dolore e quindi se non ci sono le pandemie se non ci sono le guerre purtroppo non si cambia premesso questo la pandemia questa è la prima domanda si sta dicendo in questo momento che col covid-19 conviveremo si direbbe per sempre d'ora in avanti nel senso e questa è la prima domanda questa epidemia è diversa dalle epidemie dei secoli scorsi diciamo nel senso che la capacità di mutazione di questo virus in centinaia di varianti e per esempio in questo momento che pensavamo di uscire dalla pandemia e scopriamo l'omicron 2 e compagnia bella per cui i vaccini si prevede che dovranno esserci sempre o cose del genere beh a parte la domanda come mai è uscito questo virus così aggressivo e così modificante e qualcuno si pone anche se non è magari per questo un prodotto della scienza umana detto questo forse la pandemia ha posto il problema della tutela della salute a partire dalle categorie più fragili gli anziani e compagnia bella che durerà nel tempo a questo punto la medicina territoriale preventiva eccetera eccetera sarà imposta penso questa è la domanda dalla dallo sviluppo della stessa pandemia la seconda domanda riguarda la telemedicina ma io sono convinto che il poter affrontare una medicina preventiva a parte l'educazione dalle scuole alimentare fisica ambientale eccetera che è fare cultura dalle scuole proprio come educazione alla prevenzione ma in questo momento qui per rispondere a milioni di persone che necessitano di medicina anche ovviamente preventiva se la telemedicina non possa essere la base di questo contatto diciamo personale e diciamo anche più immediato più semplice con tutte le domande appunto della popolazione ok allora per quanto riguarda il covid diciamo che le condizioni di oggi sono completamente diverse dal passato perché oggi viviamo in una situazione di globalizzazione in passato la gente stava a casa sua più o meno viaggiava poco oggi viaggiano le persone viaggiano le merci viaggia tutto viaggiano anche i batteri e i virus quindi siamo di fronte a una situazione molto diversa è per questo che dobbiamo vaccinare tutto il mondo e se non vacciniamo tutto il mondo non usciremo da questa pandemia perché il virus muta come ha sempre mutato anche nei tempi passati ma rimaneva lì dove era adesso gira e quindi noi Omicron si è venuto da Sudafrica non è venuto da è venuto da una parte in cui non c'era la vaccinazione perché quanto più lasciamo che il virus circoli tanto più gli diamo delle possibilità di cambiare e quindi questo è il punto che dobbiamo sottolineare questo è diciamo è un aspetto molto importante la seconda domanda riguarda la telemedicina credo che abbiamo detto abbastanza ampiamente che è una funzione che può avere una grande importanza e che può veramente aiutare a connettere tanti tante cose però ci vuole anche un aspetto molto importante che l'università non insegna e che dovrebbe essere diciamo sottolineata o perlomeno considerata quando laureiamo dei medici cioè qualsiasi cosa facciamo se il medico non è capace di sviluppare empatia siamo molto lontani dalla soluzione perché la gente ma a scuola questo non si insegna e le università non insegnano questi aspetti non come non insegnano la importanza del servizio sanitario nazionale e quindi qui abbiamo abbiamo molti problemi davanti dobbiamo dobbiamo diffondere anche questa idea che il medico non può fare il medico se non ha un'empatia non può sbrigare il paziente con quattro parole difficili così quello non capisce niente e non e non risponde più insomma è un altro Rita Cioffi Rita è il microfono deve aprire il microfono sì ecco volevo buon pomeriggio a tutti volevo chiedere questo cioè è così difficile avere un centro di prenotazione per per visita ed esami che possa gestire non soltanto quelli convenzionati ma anche non so gli ospedali oppure le strutture private e se è una questione politica ma ci dovrebbe essere un sistema che permette a tutti di avere quello che è necessario in tempi adeguati ci sono delle cose che degli esami che non hanno bisogno della tempestività se uno deve fare uno screening per il tumore del seno evidentemente non è una cosa urgente se uno la fa oggi la fa al mese prossimo non cambia nulla il problema è che bisogna saper gestire le urgenze saper gestire le cose che hanno bisogno di essere rapidamente esaminate e questo è quello che dovrebbe essere fatto dalla medicina di comunità che fa tutto quello che può fare direttamente e quello che non può fare va all'ospedale ma allora va all'ospedale per delle cose importanti non va per delle cose di noi Enrico Mauri Buonasera due considerazioni innanzitutto grazie perché ci ha ricordato una cosa bella importante in una parte della nostra regione che era la legge 833 di riforma sanitaria è chiaro che abbia ripreso alcuni fondamenti che la 833 portava una ripresa dalla prevenzione come asse centrale di una concezione della sanità rispetto invece alla medicalizzazione era uno dei suoi punti di riferimento così come un ruolo attivo del territorio altro concetto che voglio solo riprenderli per poi voglio fare la domanda e sia ben chiaro non perder tempo il concetto di prendersi cura che lei ha ribadito è un altro elemento che è stato frutto di una discussione rispetto al concetto di cura salto sulle questioni della scienza sarebbe interessantissime anche lì per approfondire dico positiva mi è piaciuto molto la sua relazione per un aspetto che non si è basato su gli aspetti di lamentela ha cercato di proporci una ripresa della discussione in merito e questo è un aspetto importante allora le chiedo due cose una una considerazione una domanda uno ruolo del cittadino a me sembra che in tutto il ragionamento che abbiamo sentito e fatto manchi un po' chi è l'attore insieme al personale sanitario che può ridefinire un'alleanza e che cerchi di riprendere i temi dell'833 alla luce del contesto attuale che ovviamente non è più quello di 50 anni fa ma che può ovviamente aiutare di andare nella direzione in cui lei indicava e questo è un aspetto voglio dire che chiedo lei ma chiedo un po' a tutti noi perché non penso che basti solo la buona volontà sicuramente gli stili di vita sono importantissimi però la discussione è un pochino più profonda domanda non le chiedo di rispondere immediatamente ma lei come professor Garattini Eminenza Grigia in questo settore quali sarebbero tre cose che ritiene importanti oggi le chiedo tre non cinque non però no però le chiedo perché mi sembra talmente complesso tutto è ovvio ha già detto la prevenzione e tutto ma nel muoverci un uomo della sua statura quali sarebbero i tre temi che riterrebbe importanti faccio un esempio da noi io sono Brianzolo mancano i medici sui giornali anche di questa settimana non ci sono due medici è drammatico e la gente deve fare sette otto chilometri per andare dal medico perché nei paesi non essendo un territorio come la Bergamasca da dove proviene molto disarticolato abbiamo dei proveni di quel genere qui allora le chiedo per sciogliere un po' la nube no e aiutarci a definire quali possono essere perché poi noi possiamo svolgere quel ruolo dei cittadini attivi che auspichiamo sia ben chiaro non voglio metterla in difficoltà professore grazie mille le rispondo molto volentieri cioè le rispondo dicendo alcuni principi più che delle azioni cioè il primo principio è non crediamo di sapere tutto quello che bisogna fare e cioè noi dobbiamo costruire le case della comunità che sono una delle cose più importanti da realizzare la dobbiamo costruire non pensando di saperlo a priori ma lo dobbiamo costruire con i cittadini cioè sentendo i cittadini sentendo quello che vogliono adeguando piano piano quello che pensiamo noi a quello che è necessario questo è un primo punto stiamo già andando in giro a inaugurare i poliambulatori e le cose questo è ridicolo non sappiamo come farlo inauguriamo degli edifici inauguriamo aiutiamo l'edilizia ma non stiamo facendo della salute non stiamo questo è un primo principio il secondo principio secondo me è quello che non ci può essere sostenibilità del servizio sanitario nazionale senza la prevenzione questo è un altro punto assoluto noi perderemo il servizio sanitario nazionale perché costerà troppo non potremo sostenerlo pensate che sono dei farmaci che costano due milioni non possiamo fare questo non ci riusciamo noi dobbiamo fare prevenzione quella è la seconda cosa secondo me molto importante e la terza cosa che non ho avuto il tempo di citare ma che per me è molto importante è che abbiamo bisogno di informazione indipendente oggi i medici vivono dell'informazione di chi produce reattivi diagnosi farmaci tutto quello che ci può essere noi abbiamo bisogno di informazione indipendente io sono veramente certe volte sorpreso all'idea che ci siano tutti questi ordini dei medici che non urlano chiedendo vogliamo un'informazione indipendente ma come è possibile che chi deve operare ha informazioni solo da chi vende ma è chiaro che chi vende ti vuol far prescrivere noi abbiamo bisogno di avere informazione indipendente dove è l'informazione indipendente c'è ma è niente rispetto al potere che ha il 30% del costo dei farmaci è per la propaganda e quindi non non per questo che poi si prescrive si fa si spreca tutto quello che si vuole abbiamo bisogno di informazione indipendente e questa è una domanda che dovrebbero fare gli ordini dei medici che non fanno perché sono vittima del mercato bellissimo Tuglia la ringrazio anch'io professore per i ricchi contributi che ci ha dato e anche l'ottimismo che mette nel suo intervento insomma se no non saremo qui ma certo però mi sorrido e rido se no non saremo qui è molto bello perché se no non saremo qui hai ragione però devo dire che da ex insegnante che come lei ricordava nelle scuole c'era il medico scolastico non solo c'erano gli screening si ricorda sì certo lo screening ausologico lo screening della vista lo screening dei denti i bambini dall'asilo tutta la scuola dell'obbino erano seguiti la famosa prevenzione tutto questo è stato distrutto poi c'erano le asle le usle poi diventate asle fino a qualche anno fa adesso io sono ho mandato un'amica che abita a farsi un esame del sangue in quella che io pensavo fosse la asle vicino a casa in via Gola e le han detto che non è più asle che deve andare a Sesto San Giovanni da via Gola è zona Navigli deve andare a Sesto San Giovanni perché quella non è più asle parliamo di salute mentale c'erano tutti i CPS territoriali la maggior parte sono stati chiusi e sono stati assorbiti dentro gli ospedali per cui da 15-20 CPS a Milano ne sono rimasti tre o quattro io faccio la volontaria Itaca l'associazione per la salute mentale che immagino lei conosca ed è una tragedia è una tragedia quello che sentiamo ogni giorno quindi io la ringrazio tantissimo del suo ottimismo che io in parte condivido perché se no non farei la volontaria dove lo faccio e non mi occuperei anche di verde di ambiente che c'entra con i virus perché ho letto Spillover anzi volevo chiederle lei cosa ne pensa di quel libro mi ha aperto il mondo dei virologi che non sono quelli che parlano solo in televisione ma sono quelli che vanno a caccia di virus per il mondo e ci parlano di virus che vengono fuori perché l'intervento dell'uomo l'antropizzazione del mondo è tale per cui la vita selvatica non esiste più e la contiguità quindi lo spillover tra l'animale selvatico e l'uomo è tale per cui i virus che loro muoiono tantissimi virologi muoiono nella ricerca che fanno per il mondo da ebola ebola in Africa poi ebola in Australia quindi la domanda anche che faceva prima Pier Giorgio Daniele su questi questi virus sono cambiati no solo che come giustamente ricordava c'è la globalizzazione ma c'è anche un aumento della popolazione mondiale 8 miliardi rispetto nel giro di vent'anni trent'anni raddoppiata questa popolazione mondiale è spaventosa questa cosa quindi anche la lotta dell'uomo contro il virus è un discorso di prevenzione legato all'ambiente quindi il discorso è complicato ci sono gli interessi la mia domanda è che cosa ne penso ottimisticamente della riforma sanitaria di regione Lombardia che parla di case di continuità pare che se ne aprano a breve io sono in zona 5 abbiamo un giornale di zona che dice esattamente dove saranno aperti però sempre la mia domanda è ma è pubblico tutto ciò o ancora una volta regione Lombardia darà spazio al privato perché quindi dobbiamo essere ottimisti su questa riforma speriamo che il PNRR dia i fondi finalmente perché la sanità pubblica riparta visto che invece è stata azzerata per tanti aspetti grazie lei ha già dato la risposta beh devo dire una risposta sintetica Livi no ho pensato di tirarla come vuole no che venga davanti perché sono il suo medico che appunto ha troppo da fare eccetera eccetera volevo chiedere secondo me il problema della differenza di comportamento dei vari medici dei medici parla dei medici di base nei confronti del paziente sta nel fatto che non sono dipendenti del servizio pubblico e quindi e quindi si sta avrò un rapporto secondo mio parere che è un po' il rapporto che rischia di instaurarsi comunque tra medico e paziente che è un rapporto di sudditanza del paziente rispetto cioè purtroppo spesso io ho impegnato per una vita in università di medicina quindi e io sono medico e paziente anche però quindi sono venuta a contatto purtroppo con le pazienti e con i miei colleghi c'è un rapporto secondo me ma inevitabilmente di sudditanza perché quando uno va a comprare un certo prodotto oppure si fa fare la casa dell'architetto è in grado poi di valutare il risultato il paziente deve subire quello che prescrive il medico che a volte è un ordine oppure oppure è oppure c'è addirittura una mancanza di 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 rapporto ecco certo e quello che io penso è che tra l'altro nelle nostre università noi dobbiamo insegnare agli studenti che il medico non ha non deve avere un potere sul paziente il paziente non è il suo suddito allora volevo dirle secondo lei questo problema può essere risolto innanzitutto con qualche cambiamento nell'insegnamento universitario e poi anche appunto con un un cambiamento del rapporto che c'è tra eh il medico di base e la la regione nel nostro caso cioè quindi secondo me dovrebbe diventare un rapporto di dipendenza lei ha detto che i giovani sono più orientati a questo vorrebbe spiegare qualche cosa di più certo diciamo c'è la speranza che si arrivi questo guardi io per esempio ho avuto allora io ho visto nel caso della pandemia una diversità di comportamento dei medici di base e noi coloro che si sono sacrificati e giustavano altri invece addirittura che hanno chiuso lo studio cosa che secondo me dovrebbe anche essere perseguibile dal punto di vista medico-legale certo allora mi dice può dire qualcosa di più sì sì volentieri beh io credo che i cambiamenti vadano fatti dalle due parti cioè nella formazione universitaria deve entrare molto di più quello che lei ha giustamente ricordato cioè che il medico deve creare il dialogo con il suo paziente non deve imporre le cose deve consultarlo e se lo consulta fa anche molto meglio il suo mestiere dall'altro però bisogna fare in modo che il paziente attraverso appunto in futuro un'adeguata educazione a livello scolastico sia più capace di dare un giudizio cioè vorrei vedere molto meno pazienti che andando dal medico escono desolati dicendo sono andato lì e ho raccontato non mi ha dato neanche un farmaco ecco questo dovrebbe essere l'idea che quello lì è un bravo medico quello che teniamo prescritti 10 probabilmente non sa che cosa fare applica soltanto la medicina difensiva per non avere problemi io ho trovato tutto poi arrancati insomma quindi lei ha detto giustamente io ho avuto modo in questi ultimi tempi di partecipare a delle a dei gruppi di medici giovani per esempio il movimento Giotto non so alcuni di questi movimenti in cui ho trovato molta più sensibilità nei confronti dei problemi di cui discutiamo e ancora di più la settimana scorsa ho passato una giornata con gli studenti di medicina della del Sant'Anna di Pisa e ho trovato una grande voglia di saperne di più e questo diciamo è confortante però dobbiamo utilizzare perché questa voglia di saperne di più deve essere soddisfatta se è soddisfatta produce qualcosa se non è soddisfatta poi piano piano tutti si adeguano al sistema che esiste che non è il sistema ideale abbiamo ancora una domanda Dario Marchese sì buonasera grazie professore perché lei ha fatto la sua illustrazione con un grande ottimismo e io sono ottimista anch'io per natura quindi e ci ha dato anche una traccia dei problemi che dovremmo affrontare la mia domanda si riallacciò c'è stato un intervento di un qualche anno fa della Rosi Bindi la quale ha detto che in Lombardia perché si parlava della sanità lombarda la sanità privata è talmente presente che è impossibile scaltirla e quindi abbiamo un'impresa enorme e questo però lei ha detto che bisogna provare quindi proveremo l'altra domanda io ho letto non so niente di medicina però ho letto che esempio le industrie farmaceutiche diciamo il loro vero business è su quello che vengono chiamati i parafarmaci per farti dimagrire per farti tirare la pelle e il problema e questa è la mia domanda abbiamo lasciato la ricerca in mano al privati e questo che è molto è chiaro che loro fanno la ricerca sui prodotti che aumentano il loro business ecco e quindi abbiamo questi due grossi ostacoli la presenza del privato in Lombardia un'osservazione non c'è niente di peggio che non far funzionare la sanità pubblica per dimostrare che invece quella privata funziona questa è una strategia che ormai si usa tantissimo grazie alla prima domanda ha già risposto lei in qualche modo è chiaro che questo che se noi diciamo facciamo in modo che un solo privato in Lombardia abbia magari 5.000 letti insomma vuol dire che diventerà molto importante essenziale per il per quanto riguarda la la salute quindi insomma l'altro aspetto deve contare che noi siamo un grande mercato perché il mercato dei farmaci in Italia è di almeno 30 miliardi di euro all'anno quindi è un mercato ragguardevole e lei ha ragione di dire che questo mercato è fatto di tante cose è fatto di omeopatia che purtroppo continuiamo a mantenere addirittura facciamo un giorno di celebrazione una giornata dell'omeopatia che è una cosa che è completamente assurda e poi abbiamo diciamo tutti questi integratori alimentari per cui spendiamo più di 3 miliardi all'anno li spendono i cittadini purtroppo certamente fanno bene a chi li vende ma non c'è nessuna evidenza scientifica che siano utili a chi li prende a chi li compra quindi abbiamo anche un sistema che non aiuta la pubblicità di molti dei prodotti che si sentono alla televisione è scantaloso perché è un falso dire che quel prodotto lì aiuta l'immunità è un falso non dovrebbe succedere come pure usare il termine naturale come se fosse buono è un falso i peggiori veleni sono assolutamente naturali i virus e i batteri sono completamente naturali quindi dire che il naturale è buono che è buono perché è naturale è un falso quindi la pubblicità sarebbe un altro campo in cui possiamo fare una una notevole discussione insomma perché che aiuta poi i cattivi comportamenti noi abbiamo fatto uno studio sulla pubblicità che vedono i bambini nelle ore in cui i bambini vedono cartoni animati vedono quel tipo di cose qui l'ottanta per cento delle cose che viene pubblicizzato è falso e nessuno pubblicizza quanto è importante cominciare a mangiare verdure e frutta questo sposta tutto sulle merendine di cui poi ci sono i giochi ci sono le figurine ci sono tante cose che naturalmente non possono che essere attraenti per i bambini certo ci sono altre domande posso approfittarne io per l'ultimissima domanda il vaccino lei è un esperto straordinario quindi approfitto per questo lei pensa che si possa arrivare a un vaccino tipo quello per l'influenza per il covid con quelle modalità globali con cui si discute si prepara quella sistema di discussione aperta che si è incredibilmente realizzato per il vaccino di influenza e devo dire che non lo sappiamo cioè la risposta onesta è non lo sappiamo poi i pareri personali sono anche quelli importanti però li dobbiamo mantenere come pareri personali non lo sappiamo che cosa succederà potrebbe evolvere questo in un virus che è molto noi abbiamo attualmente questo virus nuovo che è il frutto delle due varianti AB1 AB2 dell'Omicron che chiamano adesso XE è un virus che è molto contagioso ma è molto meno aggressivo però non è detto che non ci possa essere un virus altrettanto coraggioso in una variante che diventa molto più aggressivo quindi non lo sappiamo io penso che è molto probabile che ogni anno si debba fare un vaccino però non ve lo posso garantire perché non lo sappiamo lo vedremo alla nuova tua va bene però quello che bisogna insistere è che dobbiamo vaccinare tutto il mondo perché se vacciniamo tutto il mondo diminuiamo il numero di varianti il suo messaggio è stato chiarissimo e quindi non è un atto di beneficenza ma è un atto di sano egoismo grazie professore grazie di cuore per una splendida conversazione a tutti noi l'appuntamento domani mattina voi sapete cominceremo con Roberto Festa parleremo di America e poi il pomeriggio invece di rapporto tra le potenze nel mondo argomento difficile doloroso grazie a tutti a domani